25 milioni di euro arriveranno dalla Regione per il riordino e la riqualificazione urbana. Si dovranno ora predisporre e pubblicare le procedure di bando per accedere alle tre differenti misure di intervento previste. Tra le finalità della pianificazione paesaggistica regionale rientrano il recupero dei contesti degradati da attività umane e il miglioramento della qualità urbanistica e paesaggistica attraverso misure che assicurino la salvaguardia del territorio e la promozione di forme di sviluppo sostenibile. Abbiamo ritenuto di finanziare alcune azioni sperimentali, sottolinea l'assessore all'urbanistica Cristiano Irriu individuate sulla base di requisiti di riequilibrio territoriale e di integrazione rispetto ad azioni attuate in passato o in corso di attuazione a valere su altri bandi o strumenti di finanziamento. Tra le misure, spiega l'assessore Cristiano Irriu, i programmi integrati per le periferie programmi per le zone A e B finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici nei centri storici e programmi integrati di riqualificazione urbanistiche di aree a valenza ambientale. Le misure 1 e 2 sono parte integrante delle strategie antispopolamento e frutto di un preciso accordo con il sistema delle autonomie locali.